Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia che abbiamo già visto in versione player, trovate qui in alto l'arcensione. Questa è la prima maglia del Paris Saint Germain per la prossima stagione in edizione FAN. FAN. Maglia è veramente molto bella. Ci ho pensato un po' e secondo me è più bella di quella dell'anno scorso. Nella mia classifica questa prende 4 stelle di un'ottima qualità. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso come al solito, lo aggiungo sempre. Vi ricordo che tra l'altro include anche le spese di spedizione. Qua sotto, in descrizione, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo diventa ancora più vantaggioso. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, mettete un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.